quasi meglio della nazionale maggiore mi verrebbe da dire io non posso credere a quello che ho appena visto a quello che sto vedendo perché ragazzi miei dobbiamo reagire alle convocazioni di nicolato della nazionale ovviamente italiana under 21 in occasione dell'imminente europeo under 21 che potrebbe vederci protagonisti perché ovviamente la nazionale italiana è una delle favorite per l'ipotetica vittoria finale mi do una grattata nel dubbio perché non voglio assolutamente gufarla ma adesso reagiamo reparto per reparto a tutte le convocazioni fatte da nicolato come sempre andrò a dare il mio ipotetico 11 titolare e vorrei che lo faceste anche voi qui sotto nei commenti vi saluto immediatamente ciao a tutti da me lasciate una marea di mi piace su questo video se volete ma tanto lo faccio comunque i post partita le reaction tra virgolette a tutte le partite dell'italia under 21 per questo europeo non so se lo sapete ma il nostro esordio è proibitivo non lo so fino a che è abbastanza proibitivo perché comunque affrontiamo una nazionale fortissimo sia la francia under 21 quindi lasciate semplicemente mi piace tanto vi porto uguali post partita come ho fatto per l'under 20 ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati anche su questo canale ogni volta che pubblico qualcosa per quello vi dico io ho due canali di calcio ma se non mi seguite su entrambi se non siete iscritti non avete attivato la campanella vi perdete tanti video importanti poi su sto canale lo sapete pubblico anche bombe di calcio mercato notizie di calcio mercato e non solo ho anche un canale youtube extra calcio per chi fosse interessato perché non vi faccio manca niente comunque trovate i canali in descrizione durante il video compariranno qui mamma mia ragazzi mamma mia questa veramente non è la nazionale inferiore primo perché alcuni calciatori sono ormai praticamente spesso nel giro della nazionale italiana no alcuni magari sono stati convocati lì per lì poi ma piano piano prenderanno lo spazio che meritano perché credo che sarà anche abbastanza normale una cosa del una cosa del genere stiamo parlando di nomi pesanti di calciatori che verrà poi ci lamentiamo dice no perché alla fine ce li abbiamo ragazzi calciatori dalle giovanili alla fine lo spazio gli viene anche dato se poi guardiamo no quelli che sono stati convocati per la nazionale under under 21 ecco forse si dovrebbe dare ancora più spazio a calciatori di questo tipo bisognerebbe puntare un po di più su calciatori giovani italiani e di prospettiva ovviamente mi sto riferendo ai club di serie a per cercare di attivare ulteriormente quello che è un processo di rinnovamento che deve essere continuo negli anni nella nazionale perché poi ci mettono un attimo i calciatori a invecchiare e ci deve stare sempre il ricambio pronto ragazzi ma qui dopo andiamo ad entrare in dei meriti che non riguardano questo contenuto io vi vado a prendere e ve lo metto in sovrimpressione anzi mi sposto leggermente ovviamente lo vogliamo chiamare tabellone dei convocati e parto come sempre reparto per reparto cominciamo dai portieri e queste sono le convocazioni che sono state fatte caprile portiere del bari carne secchi ovviamente portiere della cremonese ma di proprietà dell'atalanta e turati portiere del frosinone io mi sento di dire che sono convocazioni azzeccatissime mi sento anche di lanciare la provocazione che provocazione non è carne secchi sarà il titolare probabilmente 100 per cento perché tra questi è quello che ha più esperienza serie a non so come se la metterà poi l'atalanta onestamente perché per quello che ha dimostrato potrebbe tranquillamente giocare titolare anche nell'atalanta quindi staremo a vedere però è un portiere veramente poi sulla bocca di tutti dei tantissimi club di serie a che vorrebbero accaparrarselo perché questo per il futuro promette veramente benissimo ma comunque devo dire che la nazionale italiana solitamente con i portieri siamo sempre messi molto molto bene anche nelle riserve per me carne secchi sarà il titolare senza nulla togliere a caprile e turati perché hanno fatto soprattutto caprile secondo me ha fatto una stagione veramente sopra le righe con perché turati ma soprattutto caprile vabbè tutti e due commettiamola così qua ci possiamo sbizzare in realtà può uscirci fuori un bellissimo 4 3 3 3 3 5 2 io provo ad ipotizzare un 3 5 2 ragazzi con le convocazioni che sono state fatte provate anche voi a fare le vostre formazioni tipo qui sotto nei commenti questo bene o male secondo me sarà l'undici titolare che affronterà le partite dell'europeo poi comunque nei ricambi ragazzi siamo veramente forniti benissimo fa ben sperare ecco mettiamola così questa questa nazionale nelle convocazioni difensori convocati bella nova ovviamente dell'inter tra virgolette perché sembra che lo abbia praticamente acquistato il torino l'inter che non l'ha riscattato dal cagliari è di proprietà del cagliari cambiaso cittadini lovato ocoli parisi pirola scalvini e udoghi cioè ma vi state rendendo ragazzi questi quasi tutti il 99 per cento sono nomi che circolano in serie a sono nomi che già hanno assunto una dimensione importante per quanto poi il bellanova deturno all'inter ha giocato poco ma se ne parla un gran bene di questo calciatore no è quello il motivo per cui l'inter ovviamente lo aveva preso in prestito qua non è semplicissimo secondo me se ipotizziamo una difesa a tre io penso che scalvini e lovato ci hanno il posto da titolare assicurato onestamente e forse il terzo è pirola forse ocoli ocoli chiamatelo come pare pirola sicuramente ha giocato più partite di ocoli ocoli però secondo me sono entrambi affidabilissimi io la butto lì scalvini lovato e pirola secondo me in un'ipotetica difesa a tre esterni titolari secondo me sulla sinistra giocherà udoghi 100 per cento non più dell'udinese se ricordiamo di proprietà del tottenham perché lo aveva acquistato e lo aveva lasciato lo ha lasciato questa stagione in prestito all'udinese ma udoghi per quanto poi insomma i ricambi sono sicuramente all'altezza e sulla destra secondo me bellanova ragazzi secondo me alla fine bellanova sulla destra sarà assolutamente il il titolare poi magari verrò verrò smentito ma può mettere in mostra quelle che sono tutte le sue qualità e non vorrei che l'inter dopo questo europeo non averlo riscattato per 7 milioni più bonus qualcosa del genere potrebbe poi essere motivo di di rimpianto no perché poi quando c'è un europeo de mezzo se te metti in mostra la valutazione schizza alle stelle motivo per cui ecco perché il torino dice via famo assopia tutto piglia subito perché insomma non è tantissimo no economicamente parlando il valore del bellanova centrocampisti ragazzi il centrocampo negli ultimi anni ma in realtà da sempre o quasi sempre stato un punto di forza della nazionale italiana maggiore under 21 under 20 ragazzi i nomi ci sono e sono nomi veramente pesanti bove esposito miretti ricci rovella e tonali ma ci stiamo rendendo conto di che non mi stiamo parlando questi sono tutti affermati in serie a sono tutti giocatori che ragazzi ci hanno anche qua quasi tutti il posto da titolare fisso e inamovibile per quanto poi bove per quanto poi miretti cioè regà stiamo parlando in centrocampo veramente fornitissimo sulla mediana poi la cosa bella desti desti ragazzi è che sono tutti intercambiabili cioè tutti possono fare praticamente tutto no quindi chi me metti sulla mediana ci può mettere tonali ci può mettere veramente chiunque io ipotizzo nei tre centrali di centrocampo uno sicuro e tonali e poi penso che giocheranno miretti e rovella bove potrebbe giocare titolare senza nulla toglierà esposito e ricci perché ripeto sono tutti calciatori completamente intercambiabili tonè si tonella tonali rovella e miretti secondo me saranno i titolari poi vediamo se il campo mi mi smentirà e i convocati in attacco sono i seguenti cambiachi bel giocatore cancellieri che per carità alla fine si con la la zia ha giocato poco è per me è un giocatore fortissimo ma veramente fortissimo sari non lo vede tantissimo ma ha fatto bene a convocarlo colombo milano che lo contro riscatta ovviamente sapete benissimo per quale motivo per la stagione che ha fatto a lecce lecce che l'aveva riscattato nionto già nel giro della nazionale ovviamente maggiore e pellegri che comunque si difende sicuramente bene come calciatore ipotizzando un 3 5 2 io ipotizzo che là davanti sicuramente giocheranno nionto a ridosso di colombo probabilmente questa è l'idea che mi sono fatto poi si può inventare qualsiasi cosa si può inventare secondo me anche un 4 3 3 un 4 2 3 1 abbiamo giocatori talmente bravi talmente duttili che il modulo secondo me sarà non so neanche come definirlo no è una cosa che passa veramente in in secondo piano è l'atteggiamento psicologico che potrebbe fare la differenza in questo europeo e la voglia la voglia di fare grandi cose abbiamo visto l'under 20 che cosa ha fatto nel mondiale guardando i nomi che ci sono in ballo io mi aspetto un bel europeo io mi aspetto che su quattro gironi da quattro passa nei primi due se va ai quarti di finale poi semifinale finale io mi aspetto almeno ragazzi il passaggio ai quarti di finale e poi non lo so perché ce ne sono tante dei nazionali forti è la francia la spagna l'inghilterra sono sempre quelle le nazionali bene o male quindi la germania soprattutto quindi poi poi sarà difficile perché comunque anche le altre nazionali sono tanto tanto attrezzate però mi aspetto almeno il passaggio ai quarti spero perlomeno perché poi nel girono ovviamente c'è la francia spero nel nel passaggio ai quarti di finale ci abbiamo il potenziale ci abbiamo la la qualità ci abbiamo le caratteristiche il nostro girone prevede francia norvegia e svizzera quindi comunque nazionali sicuramente ostiche per fortuna land non c'è sta in norvegia under 21 quindi abbiamo scongiurato perlomeno questo questo pericolo io voglio sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti semplicemente il vostro 11 titolare tipo dove può arrivare l'italia in questo europeo vi ringrazio per la visione e come sempre vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video restate sintonizzati su questo canale per seguire insieme a me l'europeo imminente under 21 ciao ragazzi